Allora, buongiorno, benvenuti a tutti. Ringraziamo il professore Fontana per l'onore che ci fa. Lui è un abituale frequentatore del nostro centro, si è dall'epoca di Franco Salvatore. Io ho avuto la fortuna di conoscere Luigi Fontana molti anni fa. Credo ad un conversa sull'obesità. Un conversa sull'obesità in cui ovviamente quando Luigi ci parlò ci fu un po' di genere perché eravamo tutti abituati a diete dei nostri pazienti che mangiavano l'ingredibile mentre invece lui ci voleva convincere, in parte ci riuscì, che tecnicamente e teoricamente era possibile arrivare fino a 120 anni mangiando in maniera adeguata. Veramente, diciamo, i titoli e le relazioni di Luigi sono sempre state molto accattivanti e suscitano grosso interesse. Questa addirittura mi pare una cosa rivoluzionaria e quindi diciamo avremo il piacere di sentirlo come sempre quando viene a onorarci della sua presenza e del suo dire. Quindi saluto tutti quanti gli amici numerosi che sono collegati via Zoom e do la parola a Franco che ci presenterà, diciamo, da un punto di vista professionale, accademico e scientifico, il nostro amico Luigi Fontana. Grazie ancora per essere qua. Grazie. Buongiorno a tutti. Purtroppo questo periodo è un po' di mezze ferie, diciamo, che ha già molta gente in vacanza, non ci permette di essere molto numerosi, ma in realtà vedo, come ha già detto il Presidente, molte persone che sono collegate. Purtroppo questo fatto, io dico purtroppo perché a me piace la presenza piuttosto che la... Però è vero che molta gente potrà anche intervenire dopo, parlare e chiedere. Quindi io a tutti i colleghi e gli amici che sono in, diciamo, che sono in sedi un po' lontane e possono senz'altro poi intervenire per la discussione e per, diciamo, parlare alla fine della relazione. Io, anch'io, ringrazio Luigi Fontana, molte volte lo ringraziamo di queste conferenze, siamo molto amici da molti anni e lui è uno scienziato eccezionale, dirò poche parole perché molti di voi e di tutti lo conoscono già molto bene. Egli è un italiano, purtroppo ora possiamo dire emigrato, se non fosse una parola un po' equivoca, in Australia dove ovviamente ha delle posizioni di grande rilievo. Egli è della scuola di Verona perché, diciamo, che si è laureato a Verona, ha appigliato il PECD a Verona, appunto nel campo del metabolismo intermedio, nel campo dell'alimentazione, nel campo della medicina interna. Quindi, come ha già detto il Presidente Forestieri, si è occupato soprattutto e ha continuato a occuparsi molto attivamente di questi problemi. Però ben presto, dopo alcune permanenze un po' di qua, un po' di là all'estero, ha soprattutto vissuto per diversi anni a St. Louis, dove era inizialmente allievo di John Ollozzi, che è un po' il capo, diciamo, fondatore della Calorie Restriction, ma ben presto Ollozzi ha avuto un altro suo allievo, che era altrettanto diventato capo di questa grande tendenza alla Calorie Restriction. In realtà in molti libri, in molte riviste, quasi dovunque ormai, la Calorie Restriction viene indicata come l'unico vero mezzo per cui gli animali, a partire da Cenoraptitis, da Morda, la Mosca, eccetera, in tutta la scala zoologica, fino all'uomo, incluso all'uomo, incluso l'uomo, allunga la vita. Quindi la Calorie Restriction è certamente uno dei mezzi, forse l'unico più conosciuto, in cui in tutti questi anni si è anche riuscito a capire molte dei fenomeni cellulari e molecolari, che sono la base di questo fenomeno, cioè della Calorie Restriction, che secondo me fa venire meno malattie, e quindi ecco perché si campa di più. Vabbè, detto questo, indipendentemente da quello che ci dirà, volevo continuare nel rappresentare la sua personalità. Ha sempre però amato l'Italia ed è sempre venuto, è diventato professore ordinario, prima qui vicino a Salerno, poi insomma è un po' emigrato, se possiamo dire così, al nord è stato professore a Brescia, ma essenzialmente da 5-6 anni è ormai professore a Sydney, dove ha preso una serie di position molto molto rilevanti, che non sto qui ad elencare, e tra l'altro egli è anche membro di due accademie, siamo contenti perché è membro delle due accademie napoletane, sia dell'Accademia di Scienze Mediche e Chirurgiche, che fa parte della National Academy of Science, Letters and Arts di Napoli, ma anche della addirittura più antica, credo di non sbagliare, e forse un momentino più celebre, Accademia, che si chiama Accademia Pontaniana, appunto da questo professore Pontano che la fondò. Detto questo, egli ha interessi di ricerca molti variegati, ma sempre intorno alla medicina interna e alla nutrizione, a tutti i fenomeni che hanno rilievo a partire dalla nutrizione. Le sue pubblicazioni sono molto impattate, da Nature, Science, Aging, e molte nel campo dell'aging, non c'è forse rivista importante nel campo dell'aging e della gerontologia, in cui egli non sia o editor in chief, come in una di queste, oppure membro dell'editorial board. Ha scritto vari libri, anche di divulgazione, e credo che molti di questi sono molto buoni, insomma, sono tutti attuali, ma ne ha scritto anche uno, credo, nel 23, no? C'è l'ultimissimo, che è ancora solo in lingua inglese, non c'è ancora in lingua italiana, è vero? Ma verrà tradotto? Non lo sai. Vabbè, comunque sia, speriamo, lo possiamo benissimo leggere in inglese, ed è molto importante, ed egli naturalmente finisce per essere un vate della longevità, diciamo, ma la longevità come? Longevità naturalmente in buona salute, questa è la parte più importante, perché la longevità è relativa, se non è in buona salute, credo io. E posso dire, se posso dire l'aforisma della Levi-Montalcini, dicevo, è più importante aggiungere vita agli anni che anni alla vita, e questo è un significativo modo, perché vivere da malati non è una cosa certamente piacevole. Il suo impact factor è molto alto, ha circa 200, ma non solo, di riviste impattate, ma ha altre tante conferenze che ha fatto in tutto il mondo, in Italia tantissime, ed io mi fermo per non esagerare nella mia lungaggine un po' forse noiosa. Però veramente sono molto lieto di avere qui Luigi Fontana, e chissà che non possiamo trovare dei mezzi e dei modi poi per farlo rientrare in Italia, possibilmente da queste parti, più che da parti molto lontane. Lui ha la famiglia che sta sul lago di Garda, un bellissimo posto, però una famiglia, diciamo, di ascendenza, ma certamente, diciamo, le nostre zone sono anche attraenti per poterlo avere da queste parti, a parte la scienza, che naturalmente è la prima cosa importante. Grazie, scusate. E do la parola a Luigi. Prego. Grazie mille Franco e Presidente per la bellissima introduzione, è sempre un piacere venire a Napoli, venire al Change, che mi lega emotivamente da nostri passati, collaborazioni. Bene, allora, oggi parliamo appunto di questo nuovo concetto che sto... Ah, qui c'è un errore, Changing, manca una N. Sì, sì, vabbè, un typo. Quindi cambiare la conversazione dalla malattia cronica, dal sistema reattivo in cui stiamo vivendo in tutto il mondo, a un sistema invece che mette al centro la salute, quindi è salute cronica. Volevo iniziare con una breve introduzione per raccontarvi da dove parte la mia carriera, nel senso che io feci medicina, mi laureei nel 94 a Verona, iniziai... Però non posso fare nessun ordine perché... Iniziai la specializzazione in medicina interna sempre a Verona, dove un mio professore, che questo si chiama Vittorio Bosello, un giorno arrivò in aula, il professore di geriatria, l'ordine di geriatria, ci raccontò di questi dati sui topolini che facevano restrizione calorica. Per me fu praticamente come una lampadina che si accese, perché quando presentò questi dati, dicendo fondamentalmente che era possibile rallentare i processi di invecchiamento in un modello di mammiferi, topolini, e quindi esiste un intervento in natura che nei mammiferi è in grado di prevenire la stragrande maggioranza delle patologie e allungare la spettativa di vita anche del 50%. E quindi quando finì la specializzazione, sempre su questo filone che mi interessava, la prevenzione e non tanto la cura, delle malattie, scrissi a questo professore, questo amico che si chiama Richard Weindruch, che praticamente era uno dei massimi esperti, aveva lavorato con Walford, e quindi aveva fondato fondamentalmente, era uno dei pionieri della restrizione calorica nel topolino, e poi lui si occupò anche di studi sulla scimia, scrissi a Richard e gli chiesi se potevo andare a lavorare con lui. Lui mi disse, guarda, io non sono medico, faccio ricerca nei modelli animali, quindi se tu vuoi fare ricerca nell'uomo non ti conviene venire da me. Scrivi a questa persona che si chiama John Holodzie, che lavora alla Washington University di St. Louis, perché lui ha appena preso un grosso grant del NIH per studiare l'attività fisica e la restrizione calorica nell'uomo. Quindi scrissi a John, John gentilmente in giro di una settimana mi rispose, mi disse, fai la valigia e vieni a lavorare con me. Quindi nel 2001 partii a maggio per St. Louis e poi ci rimasi quasi 18 anni a cavallo tra Italia e Stati Uniti, però insomma diciamo che il grosso della mia ricerca fu con John alla Washington University. Quando nel 2001 arrivai a St. Louis, sull'uomo non c'era nulla, c'era un sacco di dati, centinaia e centinaia di lavori naturalmente nei ratti, nei topolini dell'esperimento e poi più avanti i modelli tipo C-Elegance, Drosophila, East e tanti altri, iniziava a esserci qualche dato sulla scimia, che adesso non ne parlerò perché non c'è tempo, ma comunque il modello delle scime, delle Reese's Monkey, chissà non dimostrò che anche in questo modello la restrizione calorica allunga la durata della vita e previene molte delle patologie, ma nell'uomo non c'era nulla. Quindi nei successivi vent'anni abbiamo fatto un sacco di lavori scientifici in cui abbiamo dimostrato che la stragrande maggioranza delle modificazioni metaboliche, fisiologiche, molecolari che abbiamo osservato nel modello animale avvengono anche nell'uomo. Chiaramente nell'uomo è impossibile fare uno studio di sopravvivenza, io adesso non le parlerò appunto per brevità, però se si vuole dimostrare con un intervento a lunga l'ospettiva di vita io devo fare uno studio di sopravvivenza. In un yeast, in un worms parliamo di settimane e mesi, in un topolino parliamo di tre anni, in una scimmia parliamo di 40 anni per fare uno studio di sopravvivenza, almeno 40 anni, è chiaro che in un uomo sarebbe impossibile sia finanziariamente che tecnicamente fare. Quindi siamo tutti alla disperata ricerca di biomarcatori di età biologica che ancora non abbiamo, iniziamo ad avere un hint di questi DNA methylation clock e di altri marcatori, ma ancora non ci siamo. E quindi questi sarebbero molto importanti per spingere il campo e per capire veramente se un intervento accelera o decelera i processi di invecchiamento. Naturalmente quando inizia il 2001, come dicevo, non c'era nulla sull'uomo e anche l'argomento era visto appunto come qualcosa di sì funziona nei topolini, ma sai i topolini non sono uomo, giustamente, e in realtà appunto negli ultimi 20 anni sono riuscito a far diventare questo un campo abbastanza ben riconosciuto e abbiamo pubblicato insomma diciamo a diverse mandate i risultati in Science, Cell, e più recentemente l'editrice di Nature Review Molecular Cell Biology mi ha chiesto di scrivere una review, questa è una delle più importanti riviste di review al mondo, se non la più importante, mi ha chiesto di scrivere una review che abbiamo pubblicato nel 2002 ed è già una highly cited paper. Allora andiamo direttamente, saltiamo tutti i modelli animali perché non abbiamo tempo, andiamo direttamente nell'uomo, giusto per fare un riassunto di quello che abbiamo visto sulla restrizione calorica, restrizione dietetica, senza malnutrizione nell'uomo. Il primo paper che pubblicai fu del 2004 su PNS perché quando arrivai negli Stati Uniti c'era un'associazione di persone che era fermamente convinta che la restrizione calorica funzionasse nell'uomo e quindi autonomamente si erano messi a ridurre l'introito calorico senza malnutrizione, quindi col 100% dei nutrienti e vedete il primo paper dimostra, questo qua è un paper che è stato più di mille volte adesso, al giorno d'oggi, che queste persone che facevano restrizione calorica avevano un profilo cardiometabolico eccezionale, vedete colesterolo 158, LDL 86, l'HDL 63, addirittura il rapporto totale HDL di 2,6, spettacolare, trigliceridi 50, la pressione 99 su 60, glicemia 81, insulina digiuno 1,4 e la proteina ciliattiva molto molto bassa e abbiamo anche visto appunto che lo spessore delle carotidi, dell'intere media thickens delle carotidi è molto più basso, è più basso in queste persone che fanno restrizione calorica rispetto al gruppo di controllo. Questo fu il primo paper, poi andiamo, si studiò la funzione cardiaca, man mano che invecchiamo c'è questa disfunzione diastolica del ventricolo sinistro e dimostrammo appunto che come nel modello animale la restrizione calorica nell'uomo migliorava questa funzione diastolica ventricolare sinistra, che tra il resto al giorno d'oggi è un problema grave, perché sempre di più sta aumentando lo scompenso cardiaco di tipo diastolico, non sistolico, è un problema grave legato soprattutto all'obesità, alla sindrome metabolica e questo dimostra che in persone sane addirittura si ha l'effetto contrario di ringiovinamento, cioè il ventricolo è meno fibrotico, è più elastico, è più giovane. Sempre altri lavori, ne cito qui e lì, non posso citarli tutti, questo è un paper che studia l'effetto della restrizione calorica su uno dei marcatori di, tra virgolette, longevità, che è la heart rate variability, man mano che invecchiamo fondamentalmente la frequenza cardiaca, la variabilità della frequenza cardiaca diminuisce con l'età e vediamo appunto che queste persone hanno dei marcatori di heart variability che è di 15 anni più giovane e poi abbiamo praticamente pubblicato un insieme di tanti paper che dimostrano fondamentalmente che dal punto di vista ormonale e di fattore di crescita le persone che fanno restrizione calorica hanno le stesse modificazioni che vediamo nel modello animale e voglio adesso delineare velocemente che non sono banali perché voglio dire un intervento dietetico che è in grado di modificare praticamente tutti gli ormoni dell'asse ipotalamico ipofisario, cioè se ci pensate non è banale, c'è un intervento che abbassa il T3, che abbassa il testosterone e gli estrogeni, che aumenta il cortisolo quindi sull'asse ACTH e che non abbassa IGF-1 ma comunque poi agisce su un aumento dell'IGF-BP1-BP2 perché questo qui è uno, diciamo, una delle eccezioni nell'uomo della restrizione calorica, tutti gli altri sono completamente in linea queste modificazioni normali. L'unica eccezione è che nel modello, nel topolino, la restrizione calorica riduce IGF-1, nell'uomo no, l'abbiamo dimostrato sia in studi cross-sectional anche nei studi di intervento, però vediamo un aumento importante di IGF-BP1 e BP2, quindi con una minore biodisponibilità di IGF-1. L'unico intervento in realtà che abbassa IGF-1 è il digiuno, però bisogna digiunare per due, tre giorni per avere una riduzione dell'IGF-1. Ok? Lì, secondo me, ci sono degli studi importanti da fare perché in qualche maniera potrebbe essere che se uno fa magari ogni tot mesi, due, tre giorni di digiuno e poi consuma una dieta tipo mediterranea, cioè a basso contenuto di proteine, l'IGF-1 rimane più basso, magari un 10-20% ma rimane più basso. Però queste qua sono ipotesi che andrebbero confermate in uno studio serio randomizzato. Poi, in degli studi randomizzati, perché voi sapete, gli studi cross-sectional sono importanti perché a un certo punto, voglio dire, fare 15 anni di restrizione calorica in uno studio di intervento randomizzato è impossibile. Quindi, normalmente, si mettono insieme diversi dati per cercare di capire qual è la picture, la big picture, però è importante anche fare gli studi randomizzati per vedere gli effetti acuti, tra virgoletta, della restrizione calorica. In questo studio, per esempio, che abbiamo fatto, abbiamo pubblicato, abbiamo preso delle persone tra i 50 e i 60 anni con un indice di massa corporea tra i 25 e i 30 e abbiamo randomizzato queste persone a controllo, HL, oppure attività fisica, exercise sta per attività fisica e si alza per calorie restriction. Come vedete, abbiamo ottenuto circa un 8% della riduzione del peso corporeo. Questo non è banale perché se voi andate su Google e scrivete attività fisica e perdere di peso, troverete che l'attività fisica non è in grado di ridurre il peso. In realtà, questo è falso e il motivo è che le persone tipicamente fanno attività fisica un paio, due, tre volte alla settimana al massimo e questo non è sufficiente. In questo studio siamo riusciti a ottenere una riduzione del 8% del peso solo con attività fisica perché queste persone che fanno exercise non facevano dieta, è soltanto un aumento dell'attività fisica come? Queste persone praticamente facevano un'ora di attività fisica al giorno, sei giorni a settimana al 72% medio, quindi tra il 65 e l'80% della frequenza cardiaca massima. Allora, se una persona fa questo livello di attività fisica anche senza la dieta perde in un anno l'8% del peso corporeo e guardate, guardate, questa è risonanza magnetica dell'addome, una riduzione del 40% del grasso viscerale. Vedete praticamente questo è grasso viscerale prima dell'intervento al baseline, dopo l'intervento il grasso viscerale è praticamente scomparso, quasi scomparso. quindi voglio dire l'attività fisica ha un effetto ma deve avere una certa quantità e intensità per ottenere un effetto e uno studio in cui si combina restrizione calorica e attività fisica lo stiamo facendo adesso a Sydney con dei risultati molto molto interessanti. Sempre in questo studio abbiamo dimostrato che sia la restrizione calorica che l'attività fisica hanno un potente effetto nel migliorare l'insunosensibilità con diversi indici mazzuda e aria sotto la curva per l'insulina anche per la glicemia quindi è un effetto importantissimo nella prevenzione del prediabete del diabete e dell'insunoresistenza che è un marcatore di invecchiamento e poi abbiamo dimostrato sempre in altri lavori scientifici sempre su questo studio che c'è un miglioramento della vislipidemia quindi l'attività fisica da sola come la restrizione calorica in maniera significativa riduce l'RDL e il colesterolo in questo studio di circa 20 mg decilitro l'attività fisica è più potente lo sapevamo nell'aumentare l'HDL e il colesterolo buono tutte e due migliorano l'insunosensibilità la restrizione calorica sembrerebbe essere più potente dell'attività fisica nel ridurre l'infiammazione questa naturalmente era una persona tra i 50 e i 60 anni poi in un altro studio di persone più giovani tra i 20 e i 50 anni con un BMI tra 22 e 28 abbiamo fatto uno studio con 220 persone randomizzate con un 2-1 ratio cioè due restrizione calorica e uno controllo abbiamo prescritto un 25% di restrizione calorica in realtà abbiamo ottenuto soltanto un modesto 13% media di riduzione quindi il 13% non è una restrizione calorica importante tanto è vero che il BMI da 25 medio è sceso a 22,5 quindi non è una cosa mostruosa e quello che abbiamo visto è un miglioramento super fisiologico di tutti i parametri cardiometabolici giusto per fare un riassunto alla fine dello studio queste persone dicevo da 25 a 22,6 di BMI il colesterolo totale 158 l'LDL 89 l'HDL 53 il ratio 3,1 trigliceridi 78 glicemia digiuno 81 pressione sistolica diastolica 110,68 questo profilo cardiometabolico è un profilo in cui il rischio di fare un infarto del miocardio è del 5% cioè persone secondo i dati del Framing Health Study le persone che hanno un profilo cardiometabolico di questo tipo hanno meno del 5% del rischio di fare un infarto del miocardio delle persone che vedete che hanno un fattore di rischio alterato hanno il 50% di fare un infarto quelle che hanno due o più fattori di rischio cardiometabolici alterati hanno un rischio del 70% voglio ricordare a tutti che le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morbidità di mortalità e di spesa in Italia come in tutti i paesi sviluppati patologia che praticamente l'OMS dice che almeno il 80% delle malattie cardiovascolari sono prevenibili io ritengo che il 95% sono prevenibili soprattutto se inizia uno giovane e mantiene questo profilo cardiometabolico ma siccome le persone man mano che invecchiano poi ne parleremo hanno un aumento della circonferenza vita quindi con insonoresistenza dislipidemia ipertensione in glicemia che aumenta piano piano dagli 80% che dovrebbe essere ottimale milligrammi di cilidro e poi diventa 90% 95% 100% 105% 110% e poi alcuni che hanno predispizione diventano diabetici sempre in questo studio abbiamo dimostrato una riduzione significativa dello stress ossidativo con gli F2 isoprostani urinari e una riduzione significativa di tanti parametri infiammatori quindi la proteina ciriativa high sensitive TNF alfa e cosa interessante e questo è un marcatore di restrizione calorica fenomenale una riduzione delle cellule bianche totali neotrofili linfociti e monociti perché è interessante perché forse non so se avete seguito questo filone che sta esplodendo che si chiama praticamente bone marrow activation cioè questa iperproliferazione delle stem cells immunitarie del midollo osseo e quello che alcuni colleghi e amici che lavorano a Monzane hanno dimostrato è che l'iperinsulinemia e l'obesità è uno dei fattori che stimola la proliferazione di queste stem cells del stem immunitario con una produzione di monociti che poi entrano in circolo e questi praticamente vanno a posizionarsi nelle placche aterosclerotiche aumentando il rischio aterosclerotico in questo studio pubblicato su European Heart Journal nel 22 vedete praticamente hanno fatto una 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 pet del del midollo osseo delle delle vertebre lombari e delle placche aterosclerotiche delle coronarie e vedete praticamente che le persone che hanno più iperproliferazione vedete del un buon marrow activation sono quelle che poi hanno più monociti circolanti hanno delle placche aterosclerotiche infiammate sempre con la pet e hanno un aumento dello spessore delle placche aterosclerotiche questo è un argomento che sta esplodendo quindi al di là dei classici fattori di rischio colesterolo pressione glicemia sembrerebbe che questa attivazione delle stem cells immunitarie giochia un ruolo fondamentale nell'aterosclerosi sicuramente ma siccome più proliferazione del midollo osseo significa anche più random mutation questo anche si lega poi a un rischio maggiore di leucemie displasie mieloidi e via dicendo e va bene questo è lo stesso e l'altra cosa molto interessante fondamentalmente è che queste cellule mutate perché appunto se una cellula aumenta la proliferazione cellulare una stem cells questo aumenta il rischio di mutazioni random e in questo paper pubblicato su Nature 2021 che è molto interessante secondo me fa vedere che hanno fatto un modello in cui hanno fatto una delezione di questo gene per il riparo al DNA ERCC1 nelle cellule ematopoietiche staminali e quindi proprio perché hanno diletto questo gene questi animali avevano praticamente in queste cellule un aumento della E-deoxiguanosin che è un marcatore di danno al DNA e vedete praticamente che tutti i tessuti tutti i tessuti hanno un aumento di marcatori di senescenza cellulare e non solo praticamente c'è anche un aumento delle transaminasi della proteinuria e di altri marcatori di danno sistemico e gli animali vivono anche molto più molto meno del gruppo di controllo quindi suggerisce praticamente che le cellule si comunicano come il tessuto diposo produce delle adipochine che vanno a segnalare a livello sistemico addirittura questo studio dimostra che le cellule una cellula danneggiata immunitaria che circola praticamente segnala tutto il resto dell'organismo a tutte le altre cellule questo danno e le fa invecchiare più velocemente e causa non solo invecchiamento ma anche danno organico quindi è veramente affascinante questa intercomunicazione cellulare e quindi l'importanza di nuovo di modificare il nostro pensiero da malattia cronica a salute cronica perché le malattie non sono divisi in compartimenti come giustamente nel senso che se io sono una persona che ha un cancro alla prostata o ha una placca terosclerotica voglio essere curato dal miglior specialista ma è chiaro che questo nel lungo termine è insostenibile perché se c'è questa spinta pro invecchiamento sistemica poi diventa difficile sostenere un modello di questo poi ne parleremo di questo questo sempre nello stesso studio abbiamo anche voi sapete che c'è questa idea che la restazione calorica potrebbe causare immunosuppressione quindi in questo studio abbiamo vaccinato queste persone prima di iniziare l'intervento con vaccino per il PETDA per il tetano per la difterite per la pneumonia e vediamo che in effetti non c'è un immunosuppressione cioè la risposta anticorpale è normale quindi sì c'è riduzione dell'infiammazione ma senza immunocompressione questo è molto importante e un mio collega sempre in un sottogruppo di questo studio di restrizione calorica Deep Dixit che lavora a Yale bravissimo ha pubblicato un lavoro in Science nel 2022 addirittura che il timo di queste persone dopo due anni di restrizione calorica 13% ripeto non 50% come i topolini hanno un timo misurato con la risonanza che è preservato anzi aumenta di volume in maniera significativo e ci hanno più T-REC più praticamente timociti circolanti misurati appunto con questi marcatori e quindi praticamente questo studio suggerisce che questo intervento è in grado di rallentare addirittura contrastare la normale involuzione timica con la riduzione di timociti che sono come spese importantissimi per l'immunità quindi è fantastico cioè voglio dire questo praticamente sembrerebbe essere legato alla produzione pensate bene di nuovo di questa molecola un'inibizione di questa la restrizione calorica causa un'inibizione di questo PLA2G7 nel tessuto adiposo che è responsabile dell'effetto timico di nuovo è spettacolare quello che abbiamo scoperto come le cellule si praticamente vanno a comunicare messaggi e si si autoregolano detto questo praticamente velocemente volevo dire che quando nel 35 McKay per la prima volta fece l'osservazione che la restrizione calorica rallentava i processi di invecchiamento e poi negli anni successivi non si sapeva perché era una black box grazie invece poi alla biologia molecolare abbiamo iniziato a capire i meccanismi no prima era soltanto un'osservazione senza saperne i meccanismi e abbiamo scoperto in realtà che l'invecchiamento non è un processo di usura ma è un processo altamente regolato immaginate una scacchiera no in cui c'è il re la regina l'alfier le torre i cavalli le pedine ugualmente per quel che riguarda l'invecchiamento ma poi per tutto esistono delle vie di segnale molto importanti e delle vie di segnale che sono via via meno importanti ma che comunque in maniera sinergica vanno a indurre un aumento della senescenza o una riduzione della senescenza e appunto come vi dicevo negli ultimi anni abbiamo scoperto che l'introito calorico e l'introito di alcuni aminoacidi soprattutto i branch in aminoacidi e i sulfon in aminoacidi come metano sono estremamente importanti perché innanzitutto sono dei regolatori dell'attività di IGF-1 e MTOR che sembrerebbe da quel che sappiamo a giorno d'oggi essere la via il re della scacchiera in termini di regolazione dei processi di invecchiamento e quindi di accumulo di danno metabolico molecolare e poi ce ne sono tante altre non ho il tempo di entrare nei dettagli di spiegare appunto come MPK ATF-4 FGF-21 e altri praticamente vanno a regolare questi processi di proteostasi autofagia di near repair stem cell self renewal e senescenza cellulare però sempre nel modello umano abbiamo dimostrato facendo delle biopsie del muscolo che queste persone che fanno resistenza calorica hanno una riduzione della PI3 e AKT questo qua sono Illumina Microarray con aumento di FOXO3A e 4 che questo poi induce un aumento dei geni dell'autofagia del riparo al DNA come di DB1 geni antiossidanti come la SO2 e un'inibizione di geni importanti per il ciclo cellulare come ciclina D2 con David Sabatini abbiamo anche dimostrato che questo non è soltanto i trascritti ma anche la fosforilazione di AKT è ridotta del 30-50% e come vi dicevo dal punto di vista evoluzionistico abbiamo scoperto che ogni qualvolta inibiamo la insulina GF1 e un Tor Pathway gli animali vivono più a lungo e più sani quindi è un meccanismo ancestralmente conservato e pensiamo se ci pensate è controintuitivo perché un animale che mangia di meno entro certi limiti perché poi se c'è una restrizione calorica eccessiva si va in mannutrizione ma entro certi limiti perché un animale dovrebbe vivere più a lungo uno si aspetta più sono nutrito più sono ben nutrito più nutrienti più dovrei essere sano e vivere a lungo in realtà quello che si pensa che questo sia legato al fatto che in natura noi non siamo disegnati per vivere a lungo noi non siamo disegnati per vivere una vita lunga noi siamo disegnati per procreare per trasmettere i nostri geni in natura non si vive a lungo se tu vivi in una foresta quando inizi a avere una certa età è un po' come nel calcio quando passi i 30 anni per quanto sei un fuoriclasse non puoi competere con un 18enne non ce la puoi fare perché il VO2max di un 18enne rispetto al VO2max di un 35enne non ce la puoi fare a correre tanto quanto quindi in natura noi una volta che abbiamo trasmesso i nostri geni fondamentalmente siamo destinati a essere prede di animali più giovani più aggressivi siccome in natura il cibo non è sempre disponibile a giorno d'oggi è sempre disponibile ma già in passato anche per l'uomo il cibo non era disponibile bastava una grandinata una carestia un'alluvione una siccità e il cibo scarseggiava quindi il trucco fondamentalmente ed è per questo che queste vie di segnale che vengono chiamate nutrient sense simpatiche sono molto importanti perché hanno dei sensori di quanta energia di quante calorie di quante proteine sono disponibili per la crescita se questi sensori cellulari percepiscono che ce n'è meno dicono aspetta siccome il mio goal è procreare una buona qualità di prole con un buon DNA una buona struttura devo spostare risorse energetiche dalla procreazione al mantenimento in maniera che quando i tempi poi tornano a essere favorevoli perché ci sarà cibo io sono ancora giovane per poter procreare una buona qualità di specie ok ed è per questo che la restrizione calorica funziona perché è semplicemente un meccanismo di evoluzione biologica per far sì che aumenti la probabilità anche in periodi di correstia limitati che la specie possa proseguire e trasmettere una buona qualità di DNA sempre nell'uomo abbiamo dimostrato che non soltanto questa mTOR FOXO pathway è down regolata ma con Goga Tamagilli di Harvard abbiamo anche dimostrato che vedete questo è un western blot delle proteine LC3-Becli-1 è ridotto del 50% e XC-Proten70 che è un ciapperone per per la proteostasi quindi per mantenere per la rimozione di proteine danneggiate è praticamente migliorata dalla restrizione calorica e con Marco De Maria che ha lavorato per tanti anni con Judith Campisi al Buck Institute adesso lavora a Groningen in Olanda abbiamo dimostrato che la restrizione calorica nelle mucose del colon sia nel topolino che nell'uomo riduce marcatori di senescenza cellulare come P16 e P21 recentemente abbiamo pubblicato con Marco che anche l'attività fisica anche se meno potentemente ha un effetto nel ridurre le cellule senescenti ora fino a qua abbiamo parlato di prevenzione primaria adesso parliamo di prevenzione secondaria velocemente questo qua è un lavoro che abbiamo pubblicato con Giuseppe Remuzzi su Diabetes in cui facciamo vedere che sei mesi di una restrizione calorica del 25% in pazienti diabetici con obesità addominale non solo riduce la circonferenza vita e il peso ma riduce in maniera significativa la glicemia la glicata aumenta l'insunosensibilità misurato con il clamp riduce la pressione sistolica diastolica l'angiotensina 2 la proteina ciriattiva l'albuminuria vedete in maniera significativa e la glomerular filtration rate voi sapete che la nefrotopatia diabetica è responsabile del 30-40% dipende poi dal paese degli accessi in ospedale nel reparto di nefrologia ok è la principale patologia nefrologica vedete che sei mesi di restrizione calorica riducono albuminuria e glomerular filtration rate l'iperfiltrazione glomerulare che sono i due marcatori più importanti di progressione in dialisi in chronic nefropathy quindi un intervento dietetico oltre a migliorare tutti i fattori cardiometabolici ha anche un effetto organico sul rene questo non è un lavoro mio ma è un lavoro di un collega che si chiama Ray Taylor che ha pubblicato sull'Anset di Abitism and Ocrinology pazienti diabetici che hanno perso peso con un intervento di attività fisica e nutrizione coloro che hanno perso più di 15 kg ad un anno l'86% è in remissione non ha più il diabete o perlomeno non prende più farmaci 86% in persone diabetici che hanno perso più di 15 kg a due anni il 70% di questi è ancora in remissione e voi sapete poi ne parleremo di quanto grave il problema del diabete questo è un altro studio pubblicato su gastroenterology da un gruppo di cubani di Romero Gomez e fa vedere che se prendiamo la NAFOL che in questo momento è la patologia epatica più importante è in aumento praticamente coloro che hanno perso più del 10% del peso corporeo il 100% ha un miglioramento della steatosi un 90% ha una risoluzione della NASH e l'81% ha una regressione della fibrosi misurato con biopsie epatiche ok hanno fatto le biopsie epatiche prima e dopo l'intervento e questi praticamente hanno un 81% addirittura non soltanto la steatosi la regressione della fibrosi giusto per farvi capire la potenza di questi interventi non parliamo di no mi ricordo che quando iniziavo a studiare parlavo di nutrizione nel 2001 diceva ma sì la vitamina C il polifenolo il coso no ma cosa vuoi che faccia sì magari no qui parliamo di interventi che hanno un effetto talmente potente talmente disrupti se vengono ben prescritti naturalmente poi ne parleremo di questo che ha un effetto medico questo qua cioè sempre di più nutrizione is medicine exercise is medicine è una potente medicina non una medicina minuscola velocemente volevo toccare perché non ho tempo obiettivamente però volevo buttare lì alcuni sassolini innanzitutto quando iniziai a studiare restrizione calorica ripeto appunto tanti anni fa il dogma era che la restrizione calorica era la cosa importante che la composizione della dieta era totalmente non importante questo mito grazie appunto alla ricerca scientifica si sta sfaldando faccio due esempi al volo parliamo di digiuno purtroppo il digiuno sta andando di moda sapete che ormai è spopolato non tutti parlano di digiuno tutti è una cosa incredibile in parte la colpa è mia perché tutto questo è partito col documentario che feci con Michael Mosley in cui lui prese i miei dati sulla restrizione calorica e compose questo questo bellissimo documentario senza dati scientifici nell'uomo perché prese i dati di Walter Longo sul topolino e fece uno più uno senza scienza e da lì si lanciò questo moda del digiuno che sta spopolando perché nel modello animale nel topolino il digiuno funziona se tu fai alternate day fasting nel topolino questi vivono più a lungo e sono più sani però come ho pubblicato su due giornali importanti in Nature Review Molecular Biology più recente anche su CA e Cancer Journal for Clinicians un topolino non è un uomo tutti i topolini dopo due giorni massimo 36 ore di digiuno muoiono di starvation è impossibile tenere un topolino di digiuno per più di due giorni e mezzo dopodiché muoiono io che ho un BMI di 21 posso probabilmente andare per 50-60 giorni senza mangiare addirittura avete un paziente obeso che pesava 207 chili ha digiunato per 382 giorni acqua e vitamine quindi la sopravvivenza al digiuno dipende da quanta massa grassa hai se prendi l'acqua e le vitamine perché altrimenti poi vai in malnutrizione ed efficienza vitaminica però ripeto si può arrivare addirittura a un anno di digiuno in un paziente che naturalmente pesava 207 chili io probabilmente 50-60 giorni dopodiché tutto il mio grasso se n'è andato il muscolo inizia ad essere distrutto e quindi poi muore di starvation un topolino due giorni quindi probabilmente quando facciamo questi studi nei topolini un giorno di digiuno un giorno di mangiare è come se si facesse 5 giorni nell'uomo di digiuno più o meno e 5 giorni di cibo impossibile chi è che può fare per tutta la vita 5 giorni di digiuno e 5 giorni di cibo no? questo è un problema l'altro problema è praticamente che i corpi chetonici voi sapete che quando digiuni praticamente perché il cervello l'unica maniera per poter funzionare ha bisogno di glucosio ma gli lipidi non possono essere utilizzati quindi si producono i corpi chetonici in un topolino dopo praticamente 4 ore di digiuno c'è un aumento dei corpi chetonici che si arrivano a plateau a 24 ore nell'uomo i corpi chetonici col digiuno iniziano intorno alle 16-18 ore di digiuno e hanno un plateau a due settimane quindi è chiaro che i due modelli non sono assolutamente comparabili quindi prendere i dati su un topolino su un sea elegance e dire che questo to cure funziona nell'uomo è un grossissimo errore che è stato fatto e questo studio che abbiamo fatto sul digiuno che abbiamo appena pubblicato nel primo lavoro su Aging Biology qualche mese fa cosa abbiamo fatto? per vedere appunto scientificamente questa randomizzata abbiamo preso persone tra i 30 e i 65 anni hanno fatto un digiuno vegetale quindi potevano mangiare verdure cotte crude non starci per due o tre volte a settimana se il BMI era tra 24 e 28 due volte a settimana se era tra 28 e 35 tre volte a settimana con due cucchiali di oliva abbiamo calcolato che queste persone avevano un deficit calorico settimanale del 22% in effetti hanno perso in sei mesi l'8% del peso corporeo e il 16% della massa grassa misurato con la dexa quindi dal punto di vista di body composition ha funzionato insomma in sei mesi 8% di peso corporeo in linea con quello che sappiamo l'end point primario di questo studio era la proteina ciriativa zero non si è modificata poi abbiamo misurato con il plexiglass tutte le citochine e le chemochine zero nulla si è modificato abbiamo fatto poi l'OGTT e ci sono delle piccole modificazioni significative per la glicemia 90 minuti e per l'insulina 30 e 90 minuti ma delle piccole che sono statisticamente significative ma clinicamente non significative niente a che vedere con quello che vediamo con l'attività fisica la restrizione calorica giornaliera con nutrizione ottimale abbiamo tanti altri dati che sono tempo stiamo pubblicando altri lavori su questo studio però se posso fare un riassunto di quello che abbiamo scoperto è che una caloria non è una caloria cioè uno può perdere 8% del peso corporeo 16% della massa grassa ma siccome queste persone nei giorni di non digiuno mangiavano la tipica dieta americana perché quello era lo diceva io quello che ha venduto Michael Mosley cioè tu due giorni a settimana ti mangi 500 calorie di quello che vuoi cinque giorni a settimana ti puoi mangiare tutte le tue schifezze che mangiavi prima no perché quello che stiamo scoprendo è che quello che tu mangi nei giorni va a influenzare la qualità va a influenzare la risposta metabolica al digiuno ok quindi una caloria non è una caloria in parte perché sappiamo questo l'abbiamo pubblicato su Cell Host Microbiome che quello che mangiamo ogni giorno modifica il microbiota testinale e questo è un effetto potente nel regolare la risposta metabolica a tanti interventi ma anche alla restrizione calorica e poi sappiamo che l'introito proteico indipendentemente dall'introito questo qua è un lavoro di Bettina Mittendorf perché fa vedere che in donne obese che hanno perso tutte e due il 10% del peso corporeo per disegno fondamentalmente le donne che hanno perso il 10% su una high protein diet 1,3 grammi per chilogrammo di peso corporeo hanno avuto zero miglioramento dell'insirno sensibilità misurato col clamp le stesse donne che hanno perso il 10% su una normal protein diet 0,8 grammi per chilogrammo di peso corporeo e hanno avuto la stessa riduzione di grasso viscerale con la risonanza e grasso epatico con la risonanza hanno avuto un grande miglioramento di risurdo sensibilità come ci si aspetta quindi questo di nuovo rinforza il concetto che una calorie è una caloria cioè tu perdi il 10% del peso corporeo stessa massa viscerale grassa viscerale epatica eppure la high protein intake previene l'effetto benefico sull'insensibilità quindi di nuovo rinforza che una caloria non è una caloria e questo poi l'abbiamo dimostrato con Dadele Laming sia nel modello animale che addirittura la letteratura sta esplodendo sul fatto che un eccesso di introito di aminoacidi ramificati di brain gen aminoacids probabilmente è un fattore importantissimo nella promozione dell'obesità e del diabete e le nostre detto occidentali sono ricchissime di brain gen aminoacids addirittura i nostri in palestra le persone si prendono tutte queste whey protein per pompare il muscolo però sempre di più scopriamo che questi brain gen aminoacids soprattutto attraverso l'hempore hanno un effetto importantissimo nel promuovere insinore resistenza diabete e obesità e comunque abbiamo dimostrato appunto in modelli questo qua in questo studio abbiamo fatto su restrizione calorica 4 settimane nell'uomo vediamo che una moderata restrizione proteica isocalorica riduce i brain gen aminoacids del plasma e riduce il peso e la glicemia e la proteina ciriattiva velocemente ho quasi finito perché ci vorrebbe altrimenti troppo tempo un altro concetto che volevo questo è una review che ci hanno appena accettato su European Heart Journal che ho scritto anche con l'aiuto di Walter Willett di Harvard in cui di nuovo rinforziamo il concetto sempre di più la gente si schiera io sono vegetariano io sono vegano io seguo la pale io seguo la keto c'è tutte queste mode e anche molti colleghi prescrivono si innamorano della keto poi si innamorano della high protein perché magari le persone perdono qualche chilo vediamo un po' ai vegetariani che è comunque un argomento interessante in questo review article praticamente abbiamo un po' rivisto la letteratura abbiamo visto che c'è un sacco di studi epidemiologici ci sono degli studi randomizzati che supportano un effetto benefico di una dieta vegetariana sana nel ridurre il rischio cardiovascolare però sul cancro di randomizzato non c'è niente questo è il riassunto della review sulla demenza non c'è nessuno studio quindi sono tutti studi epidemiologici non c'è nulla ma soprattutto quello che sta emergendo è che le persone che hanno una dieta vegetariana non sana cioè quelli che lo fanno per motivi etici e quindi si mangiano quintalate di prodotti zuccheri farine raffinate tutti questi prodotti vegani ricchi di trans fatty acid sale e via dicendo hanno un rischio di mortalità che è più alto degli onnivoli e sono dei grossi studi epidemiologici quindi di nuovo questa idea di seguire le mode dietetiche senza invece capire cosa fa cosa quali sono i meccanismi è assolutamente sbagliato e va contrastato con l'informazione corretta quindi il fatto che una persona pensa io sono vegetariana non mangio carne e quindi sono sanissima no assolutamente no se sei vegetariano in maniera corretta sì ma devi sapere cosa mangiare quando e come altro concetto importante questi qua sono stati dati non pubblicati però mi permettono di fare di nuovo un'osservazione importante di cui parlavamo anche primo con Franco questo è uno studio che ho fatto negli Stati Uniti ho mandato una mia postdoc in una clinica in California dove le persone pagano 200 dollari al giorno per digiunare solo acqua ok lì vanno queste persone e digiunono da normalmente una settimana fino anche a tre settimane e poi fanno una settimana dipende fanno se hanno fatto due settimane di digiuno fanno una settimana di refeeding supervisionato con una dieta vegetariana sono tanti dati che stiamo pubblicando però quello che volevo usare è per questo motivo quello che abbiamo visto in maniera interessante è che se tu prendi in media queste persone qui end of fasting questo qua è baseline end of fasting end of refeeding vedete baseline end of fasting end of refeeding cioè vediamo che ci sono degli ormoni che in maniera obbligatoria si comportano in tutti nella stessa maniera cioè in tutti il beta hidroxybutyrate aumenta certo stai digiunando per dieci giorni è chiaro che il tuo cervello ha bisogno di corpi chetonici se non vuole morire quindi in tutti aumenta la cosa interessante è che aumenta in alcuni aumenta di 40 volte in alcuni aumenta di 2 volte perché il cortisolo aumenta in tutti e poi si riduce col refeeding l'IGF1 da manuale si riduce in tutti e poi aumenta più o meno in tutti il T3 che sapete se io riduco il metabolismo devo abbassare il T3 si riduce in tutti e poi reaumenta in tutti ma guardate guardate cosa succede qua glicemia metà aumenta metà diminuisce insulina metà aumenta metà diminuisce non HDL al cricosterolo metà aumenta metà diminuisce trigliceridi metà aumenta metà diminuisce e ci tengo a precisare che qui l'intervento è uguale per tutti perché è solo acqua sai se fai una recessione calorica e gli dici ma magari quella persona non ci ha detto quello che mangiava roba di genere no questi fanno digiuno acqua solo acqua eppure per alcuni metaboliti c'è una 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 risposta che addirittura è divergente quindi cos'è che vuole dire questo vuole dire praticamente che non esiste un intervento che funziona per tutti come diceva Franco siamo tutti diversi abbiamo i dati preliminari non abbiamo la potenza statistica perché in questo abbiamo fatto anche metabolomica e proteomica quindi non abbiamo la potenza statistica ma c'è una signature che suggerisce che alcuni di il profilo metabolico basale predice la risposta metabolica tra il resto Samuel Klein ha pubblicato un lavoro che ha diviso persone praticamente persone che perdono peso in alcuni aumenta migliora l'insulina sensibilità in alcuni no e hanno visto praticamente che l'insulina basale l'insulina sensibilità basale predice a chi migliora a chi non migliora quindi di nuovo c'è una componente genetica sicuramente ma c'è anche una componente metabolica se tu parti infiammato e insulino resistente la tua risposta a un intervento drastico come il digiuno di solo acqua per dieci giorni non è la stessa e quindi questo rinforza il concetto che abbiamo un bisogno disperato di marcatori che ci dicono che predicano fondamentalmente se per esempio l'attività fisica la restrizione calorica o la modificazione dei componenti sono hanno un effetto in questa persona rispetto a un'altra persona non vi ho fatto vedere abbiamo dei dati in cui vediamo che sia l'attività fisica che la restrizione calorica migliorano questi nuovi marcatori questi DNA methylation clock di 2-4 anni cioè 10 anni di attività fisica restrizione calorica migliorano di 2-4 anni ringiovaniscono di 2-4 anni questi DNA methylation clock ma la cosa interessante è che in un gruppo di queste persone che facevano restrizione calorica che hanno ecceduto che avevano un BMI inferiore a 18,5 il DNA methylation clock è peggiorato quindi questo qua potrebbe essere un marcatore di eccesso di restrizione calorica e potrebbero essere un marcatore di eccesso di attività fisica perché molte persone dicono attività fisica va bene e quindi io mi ammazzo di attività fisica lo sappiamo già invece che quando uno eccede a fare attività fisica sopra un certo numero di ore di attività fisica si inducono praticamente infiammazione fibrosi cardiaca mi ricordo quando studiavo questi atleti negli Stati Uniti intorno ai 50 a 60 anni tanti anni di attività fisica quando li mettevo sul treadmill per fare il VO2max vedevi di quelle aritmie ventricolari che dicevo è meglio che mi fermo perché se so qua mi cade morto mi mettono in galera quindi abbiamo assolutamente bisogno di marcatori che ci dicono cosa dare e quanto dare per diversi tipi di interventi non ci siamo ancora ma ci stiamo avvicinando grazie a tutte queste tecnologie di biologia molecolare e penso che le AI ci daranno un'altra grossa mano per analizzare tutti questi dati quindi arriviamo velocemente alla conclusione quanto ho parlato 50 minuti sì ora velocemente conclusioni allora detto tutto questo comunque non c'è nessun dubbio che per rendere sostenibili i nostri sistemi sanitari non solo italiani ma di tutto il mondo abbiamo bisogno di cambiare registro abbiamo bisogno assolutamente di cambiare marcia i nostri politici devono capire che il sistema sanitario nazionale italiano con il 34,4% degli italiani nel 2050 più vecchio dei 65 anni e di questi italiani almeno 90% con Vincenzo Atella che ho visto collegato abbiamo pubblicato un lavoro molto ben citato che dimostra che almeno 90% di questi ultra 65 anni ha una malattia cronica il 65% ha due o più patologie croniche il sistema non è sostenibile non è sostenibile nel mio Stato New South Wales in Australia amici miei che sono nell'amministrazione dello Stato mi dicono che nel 2050 l'intero budget del Paese sarà per la sanità se non si fa qualcosa in alcune aree di Sydney l'85% della popolazione ha metabolic syndrome l'85% della popolazione e la cosa che è frustrante è fondamentalmente come vedete in questa diapositiva che la maggior parte delle patologie più comuni che vediamo nei nostri ospedali hanno un minimo comune denominatore che è legato praticamente in verde a tutti questi fattori di lifestyle quindi se io fondamentalmente controllo fin da giovane questi fattori di lifestyle induco come ho fatto vedere dagli studi che ho fatto vedere un pabulum metabolico che riduce drasticamente l'accumulo di danno e il rischio di sviluppare patologie tornando a questo discorso per inciso e questo è una bomba arologeria questi qua sono dati di occhio alla salute 2020 Campania Calabria e Puglia il 50% dei bambini sono sovrappeso obesi in Trentino soltanto il 20% questo non possono essere geni non penso che i trentini siano geneticamente diversi dai campani ok questo è legato a stili di vita a infrastrutture che permettono palestre piste ciclabili quindi una cultura dello sport e magari anche meno cibo e meno cibo raffinato e processato quindi se uno può passare dalla Val d'Aosta con un 15% di bambini sovrappeso obesi al 50% evidentemente c'è spazio per ridurre drasticamente però guardate questo studio su New England Genove Medicine voglio un attimino segnalare questa cosa qua questo qua è New England cioè non Topolino 2021 ragazzi che a 26,4 anni avevano il diabete ok tipo 2 dopo 13 anni in media quindi quando avevano 39 anni quindi 26 anni 39 anni il 67% aveva ipertensione ipertensione voi sapete che è un fattore di rischio per l'infarto del miocardio ictus sia ischemico che emorragico scompenso cardiaco nefropatia ipertensia e via dicendo disepidemia 51,6% nefropatia diabetica il 55% già a 39 anni aveva nefropatia diabetica il 32% aveva neuropatia diabetica e il 51% aveva retinopatia diabetica allora se in Campania il 50% dei ragazzini sono obesi e quindi questi qua di Riffo o di Raff svilupperanno un prediabete e chi è disposto geneticamente un diabete voi fatemi capire chi pagherà per questo chi e qui non hanno fatto vedere il cancro perché il cancro alla colon cancro alla mammella alla prostata all'endometrio e tanti altri tumori sono legati a questo sindrome metabolica che sono resistenza ok la demenza probabilmente buona affetta dalla demenza è legata a tantissimi anni di ipertensione pre-ipertensione di slipidemia ipercolesternia e via dicendo questa è una bomba rologeria e non so come ne usciremo da qua ho quasi finito volevo anche dire questo che tipicamente noi medici comunque nutrizionisti dicendo tipicamente consigliamo una persona di magari provare ad andare ad un dietista quando una persona è francamente obesa quando uno ha già un BMI probabilmente ben al di sopra di 30 guardate questa ragazzina facciamo un esempio ragazzina di 20 anni 1,70 di altezza l'indice di massa corporeo 21 perché pesa 60 kg mettiamo che in 5 anni prende 5 kg tipicamente in America una persona prende tra 0,5 e 1 kg all'anno ok passa da 60 a 65 il BMI ancora 22,5 prende altri 5 kg e arriva a 70 il BMI 24,2 ne prende altri 5 26 ne prende altri 10 quindi ha guadagnato praticamente 25 kg maggior parte di grasso e ancora il BMI 29,4 cioè ancora in sovrappeso tecnicamente eppure noi sappiamo da studi fatti da Will e da Frank Hu che ogni 5 kg che prendiamo dal nostro peso ideale cioè di quella ragazzina che aveva un BMI di 21 aumenta in maniera lineare il rischio di diabete ipertensione malattie cardiovascolari tumore e invecchiamento precoce fatemi finire con questo con Franco avevamo provato qui a fare quello che in questo momento sto riuscire sto faticosamente riuscendo a fare a Sydney volevamo praticamente creare una una uno servizio che io ho chiamato a Sydney Lifestyle Medicine Clinical Service ho avuto i fondi per assumere uno chef in residence una persona che sto trainando per fare cucina sana ok una dietista un exercise physiologist e poi vedremo un'infermiera e quindi quello che stiamo facendo praticamente nella struttura che dirigo questo Charles Perkins Center RP Clinic di creare praticamente un modello virtuoso per cui se tu hai un paziente con la ipercolesteria familiare mio collega David Sullivan è lipidologo e lui è entusiasta del fatto che lui tratta il paziente con la statina o col PSX9 inhibitor però tutti gli altri l'insunoresistenza l'infiammazione l'eccesso di grasso viscerale tutte queste cose qui lui non le tratta quindi l'idea è praticamente che queste persone vengono mandate nel nostro servizio e lo chef insieme alla dietista e all'exercise physiologist in base ai dati che ho fatto vedere gli disegna un programma clinico con dei workshops e poi stiamo sviluppando abbiamo sviluppato un'app che può monitorare praticamente se fa un'attività fisica quanto del genere in maniera che questa persona migliori a 360 gradi la sua salute metabolica riduce la clonale neopoiesis nessuna resistenza e via dicendo e noi siamo convinti che questo modello avrà un effetto importante quindi inizieremo con la dislipidemia però poi diabete nefropatia diabetica malattie cardiovascolari tumori cioè le donne che hanno il cancro alla mammella che è il tumore più frequente nelle donne una volta che vengono operate per la mastetocomia o quadrientotomia più chemio radio più o meno sono abbandonate a se stesse e noi sappiamo che se queste donne hanno lo stesso pavulum metabolico di iperinsulinemia alto IGF-1 biologica testosterone estrogens infiammazione e via dicendo il rischio di recidiva della mammella è molto più alto che al giorno d'oggi è 1 su 5 c'è una donna su 5 avrà una recidiva del cancro alla mammella ok e questo vale per il cancro alla colla di dicendo quindi questo intervento secondo noi vediamo come per ora è molto ben accettato stiamo sviluppando tutti questi workshop per capire cosa spiegare le persone vengono seguono imparano a cucinare perché molti dei pezzetti dicono ah bellissimo ma io non so cosa sono i legumi non so come cucinare non so come cucinare questo o quest'altro io sono abituato a mangiare gulasce patate io legumi non so cosa siano e quindi insegnare le persone praticamente a creare un pasto salutare e gustoso è fondamentale se vogliamo veramente avere gli effetti importanti come ho dimostrato da questi dati e poi andiamo anche nelle scuole stiamo praticamente con siamo messi in contatto con diverse scuole secondarie di Sydney e con i presidi inizieremo a fare degli interventi educativi stiamo sviluppando un'app per fare poi del gamification per mettere i ragazzini in competizione in maniera che magari appunto questo diventa anche un gioco e quindi insomma poi vi racconterò magari più avanti nei prossimi anni cosa succede ma sono convinto che questa è la via principe non c'è altra via non c'è altra via che questa l'educazione se vogliamo mantenere sostenibili i nostri sistemi sanitari o investiamo o cambiamo la conversazione la malattia cronica a chronic health altrimenti non c'è nessuna io dico sempre ai miei studenti di medicina questo immaginatevi di comprare una bella autovettura una Maserati fiammante molte persone mi dicono no ma a me non me ne frega niente io non voglio fare dieta non voglio smettere di fumare non voglio smettere di bere non voglio fare attività fisica io voglio godermi la vita lasciami in pace è lo stesso concetto che dire io mi compro la Maserati nuova io non voglio cambiare l'olio del motore io non voglio cambiare i copertoni non voglio cambiare i freni le pasticche dei freni certo non puoi farlo no perché c'è una legge che ti obbliga a farlo ma se uno potesse farlo cosa succede che a 12.000 km il motore si fonde perché se io non cambio l'olio a 12, 13, 14.000 km si fonde giusto mentre se io cambio l'olio molto probabilmente la macchina durerà 300-400.000 km non 15-20.000 km se io non cambio i copertoni e i freni probabilmente alla prima pioggerellina la macchina perde aderenza e va a sbattere se va a sbattere quando sono a 50 km magari distruggo la carrozzeria in parte se sono ai 130 in autostrada vi lascio immaginare quindi il modello a giorno d'oggi questo modello reattivo che abbiamo disegnato prevede fondamentalmente per l'analogia che noi abbiamo migliaia di carrozzerie e migliaia di officine meccaniche per riparare il danno che inevitabilmente avverrà se ne non facciamo manutenzione è uguale per i nostri pazienti se noi non educhiamo queste persone abbiamo il 50% di bambini obesi in Campania automaticamente o abbiamo risorse per avere 10.000 ospedali e 10.000 dialisi 10.000 letti di dialisi di trapianto di questo e quest'altro altrimenti non sarà sostenibile i ricchi si potranno permettere gli ospedali privati e gli altri avranno liste d'attesa di 2-3 anni e probabilmente muoiono prima di avere accesso alle cure ultimo concetto e poi abbiamo finito al di là di questa idea che il corpo che la salute è un bene prezioso il bene più prezioso le persone parlano di io ho il telefonino nuovo la macchina bellissima ho la nuova bicicletta elettrica il vestito firmato ma non si rendono conto che il bene più prezioso che abbiamo è la nostra salute e ci rendiamo conto soltanto quando perdiamo la salute ma al di là della salute fisica un aspetto che è totalmente sottostudiato è la salute emozionale psicologica filosofica che abbiamo perso quando vengo in Italia mi rendo conto che gli italiani sono ancora fertili che ci sarebbe poco nelle culture anglosassoni è totalmente assente questo concetto della salute del cibo del coso è molto più difficile secondo me in Italia sarebbe un paese molto più fertile però io ritengo che se non cambiamo il mind frame della nostra popolazione se non rieduchiamo le persone ad avere un rapporto corretto con il proprio con la salute emozionale con la propria crescita filosofica quindi porsi delle domande qual è il significato della vita i greci parlavano di edamania quindi questo rapporto simbiotico questa armonia con la natura con gli amici con la famiglia con l'ambiente con se stessi se non riusciamo comunque a insegnare nelle scuole a portare di nuovo la centralità se io fossi ministro boh non so neanche io dell'istruzione o della sanità obbligherei dalla prima elementare gli studenti due ore alla settimana di questi concetti che ho spiegati in maniera semplice ok iniziamo all'elementare come le tabelline uno più uno due per due o del genere e poi ogni anno si aumenta la complessità in maniera che questi concetti diventano praticamente una seconda natura come io imparo a fare matematica e poi riesco a disegnare un ponte o un aeroplano se io questi concetti li masterizzo li incorporo in me stesso perché creo delle reti sinaptiche poi diventano parte una seconda natura e quindi obbligherei due ore alla settimana a fare questa educazione sul perché diversi stili di vita vanno a impattare la salute come perché spiegare i meccanismi non soltanto mangia frutta più dura fai attività fisica no devi spiegare alle persone cosa succede quando fanno qualcosa e poi obiettivamente inizierei anche magari mettere un paio d'ora di filosofia di studi dei nostri grandi filosofi Socrate Picuro Seneca Marco Aurelio Spinosa e tanti altri che comunque aprono una nuova una visione no nuova che non è nuova però una visione più incentrata sul benessere dell'uomo in armonia con se stesso con gli altri con la natura in maniera che le persone iniziano a riflettere che la vita non è soltanto comprarsi il nuovo telefonino nuovo vestito la nuova scarpa la nuova macchina c'è qualcosa di molto più importante volevo ringraziare i miei colleghi alla Washington University in America MIT Cambridge Harvard questo è il centro in cui lavoro è il Charles Perkins Center ripeto dirigo la parte clinica di questo centro è un centro multidisciplinare in cui diverse facoltà diverse facoltà hanno i loro membri all'interno di questa struttura perché l'idea è che le scoperte le nuove trasformazioni avvengono mettendo insieme filosofi economisti medici biologi e tanti altre branche insieme per cercare di risolvere problemi complessi che non sono soltanto mettere uno stand che è importantissimo per l'amor di Dio fare una mastectomia e con questo vi ringrazio grazie grazie molto io seguo le cose di Fontana da molti anni parliamo riesco anche a leggere parecchi dei suoi articoli e quindi però ogni volta imparo delle cose nuove e siccome mi piace molto imparare più di insegnare nonostante sia professore mi è piaciuto molte oggi perché ho ancora oggi ho imparato ancora molte cose di più naturalmente alcune cose non sono perfettamente d'accordo ma questo lo sai bene però diciamo c'era un filosofo medico 456 all'anticristo Ippocrate che diceva se tu mangi bene sana nutrizione misurata e diceva anche se fai esercizio fisico adeguato io ho uno slide su questo ci camperai molto meglio si si diceva se potessimo conoscere la giusta quantità di attività fisica e nutrimento e questo vuol dire che hai cominciato a insegnare qualcosa che nessuno ha mai poi seguito adesso stiamo arrivando a un momento della scienza in cui fortunatamente cominciamo a capire i meccanismi molecolari e cellulari e quindi le cose sono molto più solide sono molto più basate con radici nella terra una cosa solo voglio dire poi dopo facciamo una discussione generale io negli ultimi tempi ho spesso fatto alcune conferenze l'ultima erice qualche settimana fa in cui ho intitolato proprio una rivoluzione nel campo della medicina io credo che noi stiamo veramente sbagliando molto nel campo della medicina perché non pensiamo assolutamente o molto poco o diciamo solo parole sulla prevenzione invece proprio tu l'hai detto a un certo momento oltre alla cura che dobbiamo per forza fare perché ci sono milioni 8 miliardi e mezzo di persone che devono essere curate però dobbiamo cominciare a fare la prevenzione ed è molto difficile perché dovremmo cambiare la testa dei nostri educatori anche elementari come dici tu ma soprattutto nella facoltà di medicina se noi non cambiamo gli studi di medicina ne andremo sempre peggio perché pensiamo solo alla cura dobbiamo pensare alla cura per carità nessuno mi fraintenda ma dobbiamo passare a pensare alla prevenzione prevenzione primaria e prevenzione molto più precoce di quello che si fa oggi prevenzione secondaria a partire non voglio parlare dei bambini perché non capisco niente sono ignorante ma a partire da 18 anni ogni persona deve essere valutata deve essere misurata ci vuole una misura poi ho fatto vedere in quei pochi scritti che non sono ancora riusciti a pubblicare solo in parte su riviste internazionali ma veramente quello che hai detto è sacrosanto forse alcune parti filosofici non siamo perfettamente d'accordo ma credo che dovremmo fare studi di economia di demografia che ci fanno capire quello che tu hai detto negli ultimi dieci minuti cioè che praticamente se noi non facciamo prevenzione arriverremo non si sa come dove o forse alla distruzione di tutto il mondo in centinaia di anni no la distruzione no secondo me appunto si creerà come in passato un divario tra chi si può permettere e chi non si può permettere una distruzione non penso non siamo così catastrofici cioè sono d'accordo con te cioè nessuno mette in dubbio i progressi della medicina quello che abbiamo fatto negli ultimi 150 anni è spettacolare spettacolare la prima cosa la prima misura perché siamo l'aspettativa di vita è così aumentata perché i progressi della medicina della teoria però in America negli ultimi 4 anni anche in pre-covid è inizia a calare di 2,5 anni cioè il paese che spende 4,1 trilioni di dollari all'anno ha un'aspettativa in calo l'aspettativa di vita in calo quindi i soldi non riescono anche una spesa sanitaria così esagerata non riescono a far fronte al caos che hanno creato con uno stile di vita assurdo ma ci stanno cure scusami che dico quest'ultima cosa ci stanno cure di medicinali che fanno migliorare migliorare per il modo di dire fanno allungare la vita di una persona che sta molto male con un cancro di 6 mesi di 8 mesi di 10 mesi con una vita pessima e costano 100 mila euro esatto 200 mila euro all'anno e sono i paper che vengono poi pubblicati su New England già ma tu mandi i paper come i miei e te li rigettano e poi studi che magari fanno vedere che un chemioterapico aumenta di 3 mesi rispettive di vita vabbè prego professore Bechino prego Luigi è acceso è acceso grazie per questa splendida review del tuo lavoro che io trovo convincente nella gran parte dei punti veramente convincente convincente mettiamola così il commento che ho è che l'intervento sullo stile di vita al di fuori dello studio clinico rimane straordinariamente difficile fra gli ultimi dati mi è passata sotto gli occhi come dire ancora una volta il concetto che l'Italia è divisa in due per quello che riguarda la sanità gli hallmarks della senescenza non sono solo quelli biologici ma sono anche quelli sociali e questo spiega tante cose il che non autorizza questo è un commento soltanto nessuno a diciamo fare un'alzatuccia di spalle e dire non dobbiamo andare in quella direzione autorizza però io credo o induce io credo tutti quanti a pensare che una parte dello studio che è necessario della ricerca che è necessaria già da tempo oramai deve come dire essere incentrata su questi ultimi aspetti che io riassumo con un termine limitato e improprio negli hallmarks sociali proprio questo no ma sono pienamente d'accordo Francesco sai io in questi ultimi 25 anni mi sono dedicato a capire se nell'uomo era possibile impattare in maniera importante i meccanismi dell'invecchiamento e di queste patologie comuni le più frequenti e penso di aver dato abbastanza evidenza io ed altri che l'impatto è mostruoso non è una cosa minima cioè l'impatto se le persone giustamente potessero mettere in atto questi interventi l'impatto è mostruoso mostruoso e quindi poi poi rimane fondamentalmente il problema come dici tu sociale no però da qualche parte bisogna pure iniziare nel senso che o continuiamo a dire come dici te purtroppo è difficile quindi curiamo in emergenza no un po' come dire come l'immondizia no possiamo aspettare l'emergenza e liberiamo la città quando c'è un'emergenza possiamo pianificare esistono posti come dove io arrivo dal Garda voglio dire che tutto è pianificato non si vede immondizia certo è piccola Siden è grande sono 4 milioni di abitanti non si vede immondizia non c'è una traccia di immondizia per le strade non vedi neanche una sigaretta per la strada quindi è fattibile ok allora bisogna capire come farlo e bisogna capire secondo me che ipotizziamo che riduciamo del 10% la spesa sanitaria facendo degli istituti di vita corretti questo libera probabilmente una finanziaria o mezza finanziaria di risorse economiche che possono essere sviluppate per il sociale per creare tutto quell'insieme di sistemi educativi di infrastrutture cioè io vi arrivo dal Garda esci di casa e ci sono piste ciclabili dappertutto palestre di roccia di questo ti assicuro che 30 anni fa non c'era 30 anni fa arrivava il Garda non c'era niente c'era il lago e basta adesso praticamente hai camminate di 10 km 20 km 30 km in piano in salita biciclette elettriche surf palestre cioè tu esci e non puoi non fare attività fisica non puoi perché voglio dire sei circondato da infrastrutture che favoriscono l'attività fisica io vivo a Sydney e c'è la differenza scusa poi finito c'è una differenza enorme tra alcune zone in cui praticamente la gente ha più soldi e quindi ha infrastrutture parchi dappertutto posti per fare sport mangia meglio e quindi si influenza migliori ristoranti qualità e poi altre parti di Sydney in cui invece le infrastrutture sono carenti in cui la cultura del mangiare dell'ignoranza è lì c'è come ti dicevo l'85% della popolazione che ha la sindrome metabolica quindi sono pienamente d'accordo non è facile non è un problema facile però abbiamo fatto cose molto più difficili nella storia dell'umanità abbiamo praticamente con i francesi spazzato via no le monarchie abbiamo domande e risposte brevi abbiamo fatto le scuole prima praticamente avevamo una scuola soltanto i ricchi adesso vanno una scuola tante persone quindi è fattibile ci vuole sforzo e determinazione ma ci arriviamo perché i sistemi sono insostenibili sono sempre d'accordo che è l'economia poi che guida i cambiamenti quando si arrivano a momenti in cui finanziariamente non ce la fai più qualcosa deve cambiare no? felice la prossima volta che organizziamo un talk del genere organizziamo almeno due o tre ore poi di discussione dopo perché ci sono un sacco di domande che vorrei fare solo giusto un paio che mi sono sorti all'inizio del tuo talk la popolazione che voi prendete in considerazione per gli studi sui profili cardiometabolici l'etnia cioè nel senso sono americani sono europei o altro e sono popolazione sana popolazione che ha già come dire dei problemi di sovrappeso o cose del genere e per quanto tempo insomma come dire sono ottenuti in restrizione calorica questa è una domanda poi un'altra sui profili ormonali ci sono vari ormoni che salgono scendono insomma e cose del genere ce ne sono due che poi ne hai parlato pure in seguito gli ormoni sessuali e il cortisolo ti volevo chiedere io non sono naturalmente un esperto di questo tipo di cose gli ormoni sessuali naturalmente poi è un po' spiegato con quello che hai detto dopo che al contrario di quello che avviene nel mondo vegetale che quando ci sono problemi di diciamo di carenze di alimenti si fanno semi e la pianta muore in attesa di insomma nel mondo animale succede esattamente il contrario cioè nel senso ci mettiamo in stand by in attesa di diciamo di condizioni migliori questo un po' quello che c'è alla base quello che dicevi pure tu sulla restrizione calorica quindi questa cosa del cortisolo invece legata anche alla glicemia all'insulina resistenza che di solito è appunto come dire l'aumento di cortisolo che tu hai mostrato che questo aumenta naturalmente va un po' contro diciamo la sensibilità all'insulina e se per caso e finisco gli ormoni sessuali quindi questa questione della diciamo dell'aspetto della riproduzione è stato visto e cosa avviene nei topi mi fermo qua perché appunto non vorrei insomma alla prima domanda fondamentalmente penso di aver fatto vedere che ci sono diversi studi con diverse popolazioni in cui abbiamo fatto degli studi cross section osservazionali in persone che hanno fatto l'esternologico per 15 anni altri studi di intervento di un anno di due anni dipende insomma sei mesi diversi studi sia su persone sane con un'etnia mista caucasici african american e alcuni asian in St. Louis e quindi c'è tutto uno spettro di durata di studi di outcomes diversi per quel che riguarda gli ormoni è vero il cortisolo sai noi in medicina siamo di nuovo abituati a guardare fenotipi estremi e quindi è vero che nelle persone normale un aumento del cortisolo è un un marcatore di stress o di una malattia tipo un cushing ma in realtà nella restrizione calorica l'aumento di cortisolo modesto perché non è un aumento del cortisolo patologico è un è un marcatore importantissimo di restrizione calorica probabilmente sai gli animali che sono però l'abbiamo visto anche nell'uomo in quel 13% di restrizione calorica abbiamo visto un piccolo ma significativo aumento di cortisolo però praticamente il meccanismo è questo che gli animali sono affamati quindi stanno cercando cibo e questo aumenta il cortisolo ma come ti ho fatto vedere non c'è cushing e tutti l'insunoresistenza sono molto insunosensibili quindi probabilmente in questo approccio di system biology l'aumento lieve del cortisolo non ha gli effetti negativi come la riduzione di T3 nel senso che tipicamente se tu hai un low T3 syndrome cioè un basso T3 questo è un marcatore di patologia e tipicamente le persone che hanno basso T3 hanno ipertensione ipercolesterolemia cosa che non avviene in questo modello per cui bisogna sempre guardare le cose con un approccio di system biology non il singolo fattore e aggiungo che nel modello animale se noi rimuoviamo la 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 surrenale e quindi in qualche maniera praticamente eliminiamo il cortisolo l'effetto protettivo della restituzione calorica sul cancro sparisce quindi probabilmente il cortisolo e l'adrenal gland è essenziale per lo meno per quel che riguarda la protezione dal cancro nel modello animale nei roditori per quel che riguarda gli amori sessuali noi sappiamo che un eccessivo introito calorico fino a un certo punto specialmente nelle persone giovani aumenta i livelli di tessosterone ed estrogeni circolanti che sicuramente giocano un ruolo importante nel cancro della mammella nel cancro della prostata è vero che le donne dopo la chemio prendono tamoxifene o altre terapie o gli uomini prendono queste queste terapie che sono praticamente castranti dal punto di vista farmacologico per ridurre in maniera drastica il livello di tessosterone o di questi urmoni sessuali perché questo sappiamo riduce il rischio di recidiva quindi gli urmoni sessuali sono importanti ma lo stile di vita che abbiamo fa sì che c'è un'eccessiva produzione un'eccessiva esposizione di tessuti a questi ormoni anabolici che hanno un ruolo non indifferente nella promozione del cancro e nella promozione dell'invecchiamento Prego tu la richiesti Sì parlo con molta timidezza dall'alto del mio BMI che non è esattamente quello che si aspetta ma ovviamente certamente la prevenzione è il tema il tema generale la prevenzione può essere fatta sia come è stata descritta nel seminario con un'educazione allo sport al controllo della dieta ma c'è anche chi sta pensando a intervenire sugli effetti della caloric restriction e del sugli effetti a valle e in particolare su quello che in generale è il mondo della senoterapia della riduzione della senescenza cellulare e mi chiedevo come vedevi questa cosa che a mio avviso potrebbe essere complementare non necessariamente alternativa sì sì la maggior parte dei miei colleghi che si occupano di invecchiamento direi il 98% si occupano di CRMimetics chi di Rapalogs chi di Senolytics chi di Alpha Cataglutrate chi di NAD e via dicendo vedremo io dati umani ne ho visti zero quindi un sacco di bellissimi dati sull'East Worms Flies sull'auditori interessanti come dicevo gli uditori non sono uomini vivono comunque in delle animal in delle pathogen free facility quindi voglio dire un conto che tu dai la rapamicina a un animale che vive in una pathogen free facility e un conto che tu dai rapamicina a una persona che magari vive in un ambiente in cui c'è il covid ci sono influenze polmoniti è un immunosuppressore lo diamo appunto perché è un immunosuppressore per il trapianto del rene quindi a quale dose quanto quanto stiamo eccedendo durante la giornata in quale fase le cellule senolitiche queste terapie senolitiche sono interessanti però sappiamo benissimo che le cellule senescenti sono importantissime per esempio nella rigenerazione delle ferite se uno c'ha un danno e non c'ha le cellule senescenti non si rigenera il tessuto quindi ci sono un sacco di punti di domanda andiamo avanti con la scienza vediamo di ottenere dati scientifici seri in studi rannomizzati non basandoci sul topolino e poi commercializzando prodotti e vendendo prodotti vendendo la palla dell'orso prima no? perché quello è preoccupante purtroppo ci sono un sacco di persone che stanno commercializzando e vendendo scienziati prodotti che non hanno nessuna seria evidenza di studi rannomizzati io dico sempre se queste molecole sono così importanti resveratrolo NID sono così efficaci no? nell'allontare l'invecchiamento nel prevenire patologie è impossibile che una molecola farmacologica sia così potente e sia allo stesso tempo safe impossibile quindi o non fanno niente e allora sono safe o se sono potenti devono avere degli effetti negativi importanti no? se non vengono ben dosate questo è il mio punto di vista quindi la scienza sta andando avanti io tendo fiducioso i risultati di studi randomizzati ben powered quando mi dimostreranno che sono safe e che sono efficaci sono ben contento da buon scienziato di accettare l'evidenza scientifica male sì prego ah no questo tutto questo tutto un altro paio di maniche sono convinto che alcuni farmaci tipo questi qua questi senolitici che sono tossici per ora in un paziente che ha una fibrosi polmonare è fantastico tu c'è una malattia che è mortale e c'è un farmaco che in qualche maniera ne rallenta la progressione fantastico ma qui stiamo parlando di persone che prendono la sane dei farmaci perché sono un sacco di persone che prendono la metformina che per l'amor di Dio è un farmaco abbastanza safe però è uscito un lavoro abbastanza grosso in cui fa vedere che uomini che prendevano la metformina nel periodo di riproduzione cioè che poi hanno avuto i figli c'è stato un aumento importante di malformazioni peniene ipospadia via dicendo nella prole quindi ripeto senti ti volevo fare ancora io una domanda ah prego no 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 volevo noi abbiamo sempre detto diciamo molto forse semplicisticamente che l'uomo era fatto per procurarsi il cibo e quindi diciamo adesso che il cibo è facilmente disponibile adesso che non ci sono disponibili energetiche è normale che abbiamo l'obesità mentre invece mi pare che tu questo concetto in un certo senso l'hai un poco rivisto e viceversa hai detto che la finalità dell'uomo è quella della procreazione allora mi chiedo però tu però in effetti poi ci hai dimostrato un obeso che resiste 380 giorni di digiuno rispetto invece del normo peso e quindi diciamo il fatto che procacciarsi il cibo era una finalità antogenetica dell'uomo in grosso modo ci sta e contemporaneamente la restrizione calorica determina l'innovazione degli armoni sessuali e che potrebbe in grosso modo essere contrastante con quello che era la tua visione o mi sbaglio? Nel senso che è chiaro che in natura l'animale più robusto e quindi quello che mangia di più il toro più bello il gallo più bello più ben nutrito fino a un certo punto è quello che ha più possibilità di accoppiarsi con la più bella mucca con la più bella gallina per tramandare gli animali più forti geneticamente più belli però come dicevo una volta che hanno svolto la loro funzione cioè il toro super muscoloso che si accoppia con la più bella mucca del greggio diciamo una volta che ha fatto la sua funzione in natura non vive a lungo ok e il cibo è fondamentale ed è per quello che è fondamentale a parte che in natura è difficile che gli animali anche i leoni non è che questi digiunano cacciano e poi per 4-5 giorni digiunano cioè sono più intelligenti di noi in qualche maniera potrebbero ammazzare una preda ogni ora in realtà loro fanno la caccia e poi per 2-3 giorni non mangiano quindi non è che vanno a sbafo e continuano a ammazzare a mangiare a ingrassare stranamente a differenza di noi esseri umani pure magari avendone a disposizione quindi non sono contrastanti è chiaro che il cibo è fondamentale per aumentare la capacità riproduttiva fino a un certo punto per aumentare la massa muscolare in maniera che il toro più forte può combattere con l'altro toro per procrearsi con la donna con la femmina più bella quindi questo è un meccanismo naturale che basta guardare i documentari per capire che funziona così quando manca il cibo le risorse vengono spostate dalla riproduzione dall'ottimizzazione della riproduzione della migliore riproduzione tra gli elementi più forti della specie praticamente verso il mantenimento fin tanto che il cibo non torna a disposizione una domanda telegrafica a proposito di abuso e disuso di farmaci qual è il tuo pensiero sul lusso della semaglutide in giovani donne che vogliono dimagrire 3-4 kg? beh nelle donne negli uomini che non sono diabetici è più di 3-4 kg cioè la perdita di peso è importante può arrivare anche al 15% del peso corporeo quindi è un effetto in effetti quasi miracoloso se ci pensiamo per ora anche se sembrerebbe dagli studi fatti recenti che già un anno c'è un aumento importante del tumore della tiroide sia di quelli midollari per cui il farmaco è controindicato ci sono due controindicazioni per questi farmaci il tumore midollare è una pranchettite pregressa se tu hai avuto queste due patologie non devi prendere il farmaco però gli studi che stanno i dati che stanno accumulando sembrerebbe che questi farmaci comunque dopo un anno aumentano il rischio di tutti i tumori della tiroide quindi il mio punto di vista è che può avere un suo uso se viene usato come priming cioè io sono in sovrappeso faccio fatica a muovere o quello del genere se perdo 15% del mio peso magari perdo quei 10-15 kg sono più leggero e a quel punto posso iniziare uno stile di vita che mi permette poi di modificare la dieta l'attività fisica mi dà un priming allora sì allora secondo me ha un suo ruolo come diciamo iniziatore ma se tu mi chiedi se io ritengo che milioni di persone prendono questi farmaci che per ora sono siringhe quindi immaginate l'impatto ambientale di buttare via una siringa ogni settimana per milioni di persone probabilmente faranno delle farmaci mi sembra già che stanno già sviluppando il prodotto pillola quindi c'è già ok quindi voglio dire però ripeto quello che volevo dire è che negli anni 60-70 non c'era obesità in America o in Italia cioè in America se guarda i film degli anni 60-70 l'obesità era rarissima ok eppure le persone morivano di infarto del mio cardio come le mosche e del motivo per cui Hansel Keys venne a Napoli nel Cilento e scoprì che a Napoli al Cardarelli non c'erano infarti era una malattia praticamente rara negli anni 60-70 eppure questi erano magri quindi l'obesità è uno dei problemi ma non è il problema se uno è magro ma mangia male ha un cattivo cat microbiota fuma non fa attività fisica e quindi diventa sarcopenico man mano che invecchia non ha risolto i problemi è solo uno dei problemi l'obesità ma non è il problema verso la fine io sono solo un po' in dissonanza si dimmi su cosa sei in dissonanza che sono curioso ma è una cosa diciamo più altre cose una cosa è che la prevenzione deve essere individuo per individuo e insieme agli studi copalazionisti dobbiamo fare siamo tutti diversi l'hai citato e quindi questo significa che devi cominciare a 18 anni a 18 anni ma prima perché voglio dire quello che facciamo addirittura in utero ci sono dei problemi assolutamente che sono stati studiati che danno però c'è una cosa un po' più filosofico medica e evoluzionistica io non credo che la specie umana o anche le specie di di modelli animali inferiori sono la natura per così dire la natura poi nessuno sa che cos'è diciamo può dire che è fatta per la riproduzione ci sono molte evidenze che non è vero questo che non c'è un destino che quando è finita la riproduzione tu devi morire e poi puoi morire no no non ho detto non ho detto quello ho detto che in natura Franco se tu vivi in una foresta e inizi avere degli acciacchi sei facilmente preda di un animale no fino a che fino a che tu sei in grado di difenderti perché sei forte riesci a sopravvivere se tu ti guardi il documentario è spaventoso quanto noi viviamo tutto sommato in un mondo protetto è incredibile quanto siamo protetti ma se tu guardi questi documentari la vita è veramente terribile cioè tu hai queste migrazioni per il cibo e c'hai animali che sono lì pronti a farti fuori cioè attraverso il fiume c'è il coccodrillo poi c'è il leone poi c'è questo c'è quest'altro cioè la vita anche nei mari ogni notte video documentari ci sono gli squali che iniziano è terrore su questo siamo perfettamente d'accordo ma non che c'è un destino che dopo la riproduzione no no non ho detto quello non ho detto quello tu non hai detto quello ma hai detto qualcosa che la riproduzione o perlomeno così ho capito io che la riproduzione è una delle finalità diciamo della vita poi uno può incominciare a invecchiare eccetera eccetera questa in natura lo è però in realtà gli studi che abbiamo fatto dimostrano che in un ambiente come il nostro cioè noi possiamo costruire una società che in qualche maniera va contro quello che in natura è normale ma la natura che cos'è? perciò dico è filosofico ma la natura se io e te vivessimo se io e te vivessimo nella foresta amazzonica ti assicuro che non duri no non duri nulla non duri ma sì però questo è sicuramente legato a come tu sei fatto a come tu sei evoluto cioè l'evoluzione ci ha portato a queste perlomeno se credi nell'evoluzione ma no però è vero però questi qua sono migliaia di anni in cui i nostri geni si sono adattati in questa maniera sai meglio di me che ci sono due teorie fondamentali uno che ha la predisposizione chiamiamola chi lo sa che filosofica ideologica religiosa diciamo perché tutte le nature hanno avuto la religione tutte le le popolazioni hanno avuto la religione e quindi possono pensare a questo un altro che dice che noi per esempio abbiamo dei difetti e perciò abbiamo l'hai detto tu stessa abbiamo il DNA ripeto abbiamo tanti enzimi tanti fattori che naturalmente se fossero migliori migliorerebbero la nostra vita infatti sono dimostrazioni almeno lampanti di questo tu l'hai detto quindi io dico bisogna essere cauti a pensare che la finalizzazione dell'uomo è solamente il fatto della riproduzione l'evoluzione ci ha creato così ma se non ci fosse stato questo non saremmo proprio esistiti la specie umana nell'evoluzione perché se non ci fosse stata tutti quelli che non avevano buona la riproduzione sono morti non ci stanno più no ma sono d'accordo con te che l'evoluzione della natura è in cambiamento e l'uomo lo sta cambiando no? perché voglio dire con tutti gli avanzamenti medici e sociali abbiamo cambiato la storia naturale e l'evoluzione ma per migliaia di anni e quindi siamo soltanto cento anni che stiamo facendo questo esperimento le regole che ci controllavano erano quelle che poi magari fra mille anni riusciamo a modificare queste Newton Sensing Pathways perché abbiamo cambiato l'ambiente questo sono d'accordo con te però ad oggi noi come ci muoviamo come ci comportiamo quali sono i drive che spingono a mangiare a bere anche il richiamo sessuale via dicendo cioè uno molte persone escono e il mangiare o il bere comunque c'è dietro altre logiche quindi insomma sono d'accordo con te comunque in linea di principio su quello che dicevi che la natura non è un qualcosa di fisso ineludibile che si modifica con l'evoluzione del tempo e delle affettorie ambientali tu hai un impegno però io direi che la ipoglicemia forse pretende qualche non so se è vero pretende un quick lunch ok bene solo una cosa prego no dottoressa è importante secondo me a non essere un medico volevo dire da tutto quello che lei poi ha raccontato e quello che lei ci insegna tutti i giorni su youtube insomma ci sono i suoi video che insegnano le cose dal punto di vista nostro da adesso perché voi studiate per poi dirci quello che noi dobbiamo fare tutti i giorni quindi se noi facciamo un'oretta di attività fisica tutti i giorni 6 giorni su 7 aerobica e anaerobica mangiamo tanta verdura cruda tanta verdura cotta cereali integrali legumi che sono le cose che lei dice tutti i giorni 0,8% 8 grammi per chilo di peso corporeo già è più difficile per noi capire quante sono le proteine lei intende poi vegetali e animali no 0,8 il complesso delle proteine che noi dobbiamo assumere ma già se noi facciamo questo e poi diventiamo più compassionevoli magari ci occupiamo di qualcuno siamo più attaccati alla famiglia facciamo uno sport che ci può far piacere diciamo qualcosa leggere un libro dedicare mezz'ora a noi stessi già questo è tutto quello che noi possiamo fare noi poveri diciamo disgraziati che non non abbiamo le conoscenze scientifiche che ha lei già se ognuno di noi come posso dire si facesse suo come posso dire insomma altoparlante nei confronti se io lo dico a mia madre a tutte le mie colleghe io ho comprato un frigorifero l'ho portato in ufficio tutte le mie colleghe due sono diventate cilieche nel frattempo in dieci anni mangiavano solo pizza toast panini basta questo era il pranzo fisso di tutte le mie colleghe adesso mangiamo tutte quante sempre in salata mista di tutti i tipi e un po' di frutta qualcuno una scatoletta di tonno un po' di qualcosa quindi voglio dire se già ognuno di noi nella nostra famiglia riesce a divulgare queste cose è un buon inizio noi solo questo possiamo fare voi dovete studiare il futuro sarà che riusciremo a avere dei marcatori in maniera che possiamo essere più specifici nel prescrivere in questa persona rispetto a questa persona qual è il livello ottimale di diversi interventi in maniera che siamo molto più precisi questo è quello che la scienza penso nei prossimi dieci quindici anni ci permetterà fare perché appunto con questa biologia molecolare e l'intelligenza artificiale sono convinto che riusciremo a fare dei passi importanti per essere molto più personalizzati e specifici con quello voglio Grazie a tutti.